Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la nostra tradizione, per chiuso radicale, la nostra presidenza è fatta, è composta dagli ordini dell'associazione, dai parlamentari eletti del Parlamento nazionale che sono iscritti a certi diritti, e ai organi del Partito Internazionale del Partito e Medio Lento, oltre che ai segretari e ai consiglieri, e ai segretari 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 e ai segretari. Noi abbiamo un ordine di lavoro, che non vi leggo, è in istituzione al Paolo, vi dico soltanto sommariamente come abbiamo pensato di organizzare i lavori di questo congresso. Dopo l'apertura ci saranno i saluti, le prime associazioni che sono venute, e il signore che ci sono tanti, hanno già avuto il suo arrivo. Poi cominciamo la prima sessione, che è sostanzialmente un'altra rotonda. L'abbiamo intitolata con un titolo molto lungo, che in realtà dà un po' il senso della difficoltà che veniamo nel nostro Paese, cioè l'abbiamo intitolata sulle riforme possibili. Noi abbiamo identificato il matrimonio economicario come obiettivo, per cui la nostra situazione non deflette, e là ci diamo conto che la situazione è tale per cui bisogna ragionare per riforme possibili, per riforme completamente attuabili, se si vuole, in questo Parlamento. Comunque, con un governo, sempre che il Parlamento riesca a esprimere un governo, per cui ci sono anche delle riforme possibili di più. Questa sessione sarà composta da Bruno Di Chiripis, che è il nostro caro amico iscritto, che ci ha aiutato in questi anni moltissimo, e ci darà un quadro delle iniziazioni necessarie, soprattutto in attiva legislativa, e che secondo noi sono necessarie per il pieno riconoscimento dell'eguaglianza di tutte le condizioni di unione, sia delle persone di stesso sesso che tra persone di stesso posto, e che in questa sessione intervengono. All'inizio i rappresentanti che mi hanno voluto invitare al nostro congresso e che sono qui fisicamente presenti, che sono inizialmente scritto Joël Lederot, cioè se si pronuncia, comunque mi leggerà lui, che è l'autorista francese, che lo conosciamo molto bene, da molti anni, è l'autorista francese che vive il GVT, ed è anche nello staff di Interno, perché ci dirà qualche cosa rispetto alla situazione francese, come sapete, proprio ieri è conosciata l'ultima parte di distruzione del processo di gestione qualitario, il Senato, quindi c'è tutta un'evolizione molto, molto importante, anche per l'Italia, in questo punto di nuovo, ma per le dipendute di poi l'attività. E abbiamo anche qui presente, e vi ringraziamo per essere qui, di Adrian Trent, che è il Presidente del gruppo LGBT, del Partito Liberal Democratico tedesco, che per noi è un'unità, che la Natalia non lo è affatto, è per noi una bella unità, ed è una, diciamo, molto felicità, perché ci rapporterà, anche lui, su come sta andando a Britannia e a Britannia, come seguente anche a Britannia, che è una situazione che normalmente è a casa, ha già provato, e comincerà, per esempio, la situazione a Follorz, dal progetto di legge di Britannia, con una situazione molto complessa. E abbiamo anche contributi di altri amici su altre situazioni internazionali, l'articolare Alejandro Brasile Salud, sull'Agentina, si crede che in questo momento l'Agentina è un paese molto alla vanguardia sull'immigraianza in generale, oltre che un bel intervento, secondo me di Ryan Deleys, che è uno dei consulenti di Udama, è IT, cioè di Udama, per la equal marriage campaign, che ci dirà qualcosa di molto interessante, secondo me, sull'espressione. E poi intervengono sulle basi di questi spugli, sulla base delle loro disponibili, la loro, diciamo così, conoscenza, anche competenza, perché questa materia è molto ampia, alcuni amici, deputati, senatori, oltre che alcuni di loro hanno iscritti a certi diritti, quindi a primo titolo, membri partecipanti a questo congresso, che sono, questo lo chiamo, e poi ci sono, grazie per essere qui, e poi ci sono, e poi ci sono, la defutata di Momenici Castelli e Rega Dolonese e il senatore di Momenici Castelli Corigliana e allora, non mi rivolgo a tutti. No, Luca, c'è un'altra domanda. A loro, diciamo così, la richiesta di capire che cosa è possibile fare in questo Parlamento e con, forse, il futuro di un'altra domanda. In attesa che arrivi il Sintra, poi io comincerei la fase dei saluti, sono qui presenti alcuni rappresentanti di istituzioni e alcuni amici di associazioni nazionali che sono, a loro volta, con qualche collaboriamo, sono disponibili sempre per la collaborazione nel lavoro con noi e... però, io comincerei, se io mi ricordo, con il contributo di Charles Lafra, che è un'altra domanda. Allora, i contributi in video sono tutti contributi nella lingua originale, alcuni sono in italiano, però per quelli in lingua originale c'è la traduzione, abbiamo dato le traduzioni in istituzione. Inizio è con Charles, perché è un contributo, secondo me, molto importante. Charles è il responsabile della sezione per il cittadino dell'Ono. Sapete che l'Ono nel 2011 ha fatto una risoluzione molto importante sul diritto di emozione del cittadino. È una risoluzione storica dal certo punto di vista, perché è la prima volta che l'Ono ha assumito una posizione ufficiale sul cittadino. in questo momento siamo nella fase di verifica e di monitoraggio di questa risoluzione e quindi io direi che cominciamo con questo video e poi abbiamo finito la parola al sindaco che è arrivato che ci possa funzionare. La traduzione è in distribuzione per chi la vuole al tavolo anche se il video diciamo se non è abbastanza accessibile. Ciao, sono Charles Reichloff da Unione Unita. La Declarazione Unita di Human Rights abbraccia con le parole all humani are born a free people. Yet around the world lesbians, gay, bisexual, transgender and intersex people are harassed, attacked, imprisoned and treated in a discriminatory manner. For many, the promise of the universal declaration of the universal declaration in this whole, they feel anything but free in the world. In 2010, UN Secretary General, Ban Ki-moon and the High Commission of the Human Rights Nabi Pillai launched a global field for the decriminalization of homosexuality and for further measures to end homophobic violence and discrimination. Since then, we've seen the adoption of the first ever UN resolution initiative, the first official UN report and the first formal intergovernmental debate. After a long period of denial, the dialogue among states is at last unfolding at the United Nations and later has been elected. Now, this is an issue where the politics are shifting fast. In 2005, when a statement expressed a concern about violations against LGBT people was first circulated at the United Nations. 32 countries signed up within the year, that number occurred to 54. By 2008, it had increased to 67 and by 2011 to 85 states in all regions. Even so, deep divisions remain. And it's the same objections that come up again and again. First, the LGBT people are somehow asking for new rights or special rights. The fact is that the rights being demanded are neither new nor special. They are age-old and universal. They're exactly the same rights that were all attacked. Among them, the right to life, personal security, privacy, health, education, freedom from discrimination and freedom of expression, association, and ascending. So no new rights need just proper enforcement of existence. Second, some say that because human rights treaties don't explicitly mention and avoid discrimination, that states have no legal obligation to tackle it. But international law requires states to protect the rights of everyone without distinction. There's no fine grant, no given exemption towards it in any of our international human rights treaties. They would permit a state to guarantee full rights to some but withhold them from others purely on the basis of their sexual orientation or their gender identity. Third, there is the view that sexual orientation and gender identity are somehow Western concepts that are being unfairly imposed on unwilling nations. But sexual orientation and gender identity are no more Western than racial identity or disability or age or Western. We all have sexual orientation and gender identity that we talk about and we're not. It's part of the name as human beings. If the fact of anything can be traced to the West it's the existence of many criminal laws that are used to prosecute and punish people on the basis of their sexual orientation and gender identity. These laws that are still in place in some 76 countries were in most cases imposed in the 19th century by the colonial powers of the day. They're relatives of a bygone age. Perhaps the most common objection we hear is that same-sex relationships run counter to religious issues and to prevailing traditional and cultural values in many societies. Now, the Iran to underestimate the importance of tradition, culture and religion in shaping society but they're not on the level nor can they override individual freedoms. The collective, however united, cannot impose its shared traditions, culture and religious beliefs on an individual against his other wishes. Take religion. The freedom of religion is a common impact. It's anchored in international law. People are fully entitled to believe and to follow in their own lives whatever religious teachings they choose. What's more, they're entitled to protection from discrimination on the basis of their religious beliefs. but they're not entitled to discriminant against others whose views and values differ from them. This is not the first time that tradition, culture and religion have been used as a pretext for denying people equal rights. slavery, child marriage, marital rape, honor killers, the denial of property and inheritance rights to women, female genital mutilation, all of these have been dependent in their time on grounds of tradition, culture or religion. In this case, the conflict between the rights of LGBT people on the one hand and culture and tradition and religion on the other is a false one. The protection of one need not be at the expense of them. The key is to bring the debate back to the rights of individuals, including the right to define their own values of police and culture for themselves. And we still have a long way to go to end violence and discrimination against LGBT people. The debate over the United Nations is just starting. To be meaningful, it must be informed by facts and that requires violations to be systematically monitored, documented and reported. The same level of scrutiny should apply to these violations as to all others. This is a great human rights cause on a path with earlier struggles to eliminate other kinds of prejudice and discrimination. Overcoming resistance, countering prejudice, convincing governments to step up and protect LGBT people, none of this should be but the defense for basic rights demands nothing less of us. Thank you. I thank you very much Charles for this intervento and I hope I think I'll be right and I'll be right and I'll be right and I'll be right to the sign of it. Grazie a tutti. Il primo per la nostra storia e per la storia di Napoli. I napoletari forse ricorderanno, noi forse un po' meno, ma Napoli ha avuto una stagione importantissima di attivismo libertario per i diritti degli anni 70, che fu una delle prime città in cui fuori nacque, all'inizio degli anni 70, e proprio Napoli ospitò, se non la prima, la seconda o la terza manifestazione di piazza pubblica sulla liberazione sessuale. Fu in 1975 la prima marcia nazionale per la liberazione sessuale, convocata dal Partito Ralecato, con l'agente di liberazione della donna e al cuore. Ed è un ricordo che io voglio fare per questo evento, secondo me è importante che già allora segnava la nostra visione della questione dei diritti sessuali delle persone. Mai abbiamo dimenticato che siamo parlato di libertà per tutti e per tutte, perché non esiste libertà per tutti e per tutte, diritti per tutti e per tutte, se non lo esiste anche per le singole persone, i diritti sessuali, i diritti sessuali, i diritti sessuali, i diritti sessuali. E Napoli era il posto di elezione, in Napoli ci sono state esperienze molto iniziative, molto iniziative. Però noi siamo Napoli anche per il suo futuro. Noi siamo una piccola associazione, siamo l'ultima Napoli a parlare italiano sui diritti dell'ospedale, anche se molte di noi hanno molti anni di esperienza. Siamo, io lo dico sempre, siamo i figli naturali del fuori e facciamo parte della storia radicale, quindi di una tradizione culturale, oltre che politica di questo paese, molto connotata anche su questi temi e che mi permetto di dire, anche se lo ho detto io, che ne faccio parte di questa storia, ha dato a questo paese cose importanti, anche obiettivi raggiunti, non soltanto principi ideali, ma anche obiettivi raggiunti in questo tema. Ecco, noi guardiamo, ve lo dico, con molta onestà e sincerità, sono sempre lo detto anche ieri alla sua assessora, che ha voluto fare un po' di faccia, che ha voluto molto gentilmente partecipare al dibattito sulla regolamentazione della Costituzione, che abbiamo tenuto ieri nel nostro congresso e che ringrazio anche per essere in compito anche oggi. Noi guardiamo con grande attenzione alle esperienze dei comuni, perché il Parlamento sembra non sentirci, non vede, non sente, non fa niente, in questi anni è stato totalmente vuoto dell'insettiva, e la nostra istituzione a quello che i comuni e le autonome locali possono fare non è sostitutiva, io ci tengo molto, non è che aspettiamo che il Parlamento si muova e quindi chiediamo ai comuni di muoversi, no, i comuni hanno una specifiche competenza entro le quali possono sviluppare tutta la loro possibilità di incremento, ci sono stati comuni che in Italia hanno già fatto un po' di essere molto precevoli, molto importanti, ricordo Torino e Bologna di sicuro, ma ultimamente anche Milano si sta molto, diciamo così, accelerando, Napoli ha un grande vantaggio, eppure essendo arrivata a ultima può essere la più avanti da gioco di politica, e le dichiarazioni che lei ha fatto e la sua amministrazione hanno fatto ci lasciano molto queste varie. Voi non avete avuto paura di parlare di certi argomenti, soprattutto di regolamentazione del patrimonio e quindi di regolamentazione delle comuni tra persone di sesso sesso, e anche comuni civili tra persone di sesso opposto, avete parlato senza paura anche di regolamentazione della Costituzione, che è un tema non è molto caro e sul quale dovremmo investire nei prossimi anni perché è un'autentica vergogna, è una vergogna italiana, il modo in cui direggiamo e dimentichiamo i diritti civili delle persone che scelgono liberamente di costruirsi, non quelle che sono vittime di tratta o di interattimentate, sono due questioni molto diverse. Ripeto, noi guardiamo con grande speranza a queste esperienze perché da queste esperienze possono arrivare non soltanto indicazioni del patrimonio, ripeto, non soltanto indicazioni del patrimonio, ma passi concreti. Mi creda, signor sindaco, che il registro delle unioni o il certificato o quelle scelte che il patrimonio non sono soltanto azionale del Parlamento, ma possono diventare un grande lavoro, molto circosivo, molto paziente, ma molto significativo secondo noi, anche l'acquisizione di quei diritti, oltre ai doveri, non abbiamo mai chiesto i diritti, anche i doveri, per tutti, che in Italia non esistono. Una delle cose più significative che Charles ha detto nel suo messaggio è una cosa che in Italia ancora suona strana, la sua strana addirittura è il modo del diritto, che in genere è il diritto al tempo, perché noi ci dimentichiamo che i diritti delle persone e dei diritti non sono diritti di una parte particolare della società, sono semplicemente e unicamente diritti umani, perché sono diritti di parola, di espressione, di visibilità, di costruzione di una famiglia, di diritti proprietari, che sono semplicemente diritti umani, e se imparassimo a me non in Italia a concepire i diritti delle persone e dei diritti come diritti umani, avverete completamente il quadro eventuale delle istituzioni sin servizionali e il racconto con le istituzioni sin servizionali. Quindi io da diverso modo posso mi assoluto per la sua strutturità, per essere venuto e vi lascio a me. Grazie, buongiorno, sono io che ringrazio l'Associazione Radicale Certi Ditti per aver scelto Napoli come sesto congresso nazionale. Io non so se Napoli è arrivato per ultimo o per prima, perché non è questo tipo ovviamente di corsa che ci interessa, quello che ci interessa è che si parli di quello che si parla. Perché noi registriamo per esempio il registro degli unici di, che noi abbiamo fatto per primi rispetto a altre città, pure quando un'altra importante città, lì la nostra è, l'Affa ha avuto la prima faccia sui televigri. Napoli era la prima faccia sui televigri solo quando qualcuno, dolorosamente, interrompe il gasolo del trasporto pubblico della nostra città, nel giro del mondo si dice che a Napoli non funziona nulla, non funziona nulla, non funziona nulla il trasporto pubblico. Questa è la nostra città, la nostra diversità. Noi perché ci imbattiamo sui diritti? Perché nei diritti devi battere anche quando c'è crisi economica, soprattutto quando c'è crisi economica. I diritti umani non hanno nulla a che vedere con la crisi economica, anzi, magari la comprensione dei diritti sono proprio il frutto di una crisi del capitalismo attuale. Quindi la nostra battaglia sui diritti è una battaglia, a cui crediamo tantissimo. E nella città di Napoli questo viene abbastanza facile. Napoli avrà sempre tanti problemi, ma mai quello di pensiero umano e del conformismo. Napoli è una città in crucio tra culture e religioni, è una città in cui ognuno di noi ha una contaminazione di generazioni di culture, di cui ognuno di noi cerca di essere una simpatia. Questo è un fatto positivo che Napoli possa essere un messaggio importante nel centro del Mediterraneo come città di inclusione. Qui condivono molto facilmente la comunità cattolica, la comunità russumana, con i valvesi, con la comunità ebraica. Appena abbiamo posto il tema della moschea in città, non c'è stata la sottolineazione popolare. Così come il 27 aprile noi daremo la cittadinanza onoraria al presidente Abubazian come rappresentante dei palestinesi, una notizia che è stata accorta con la famiglia della città. Così come il 19 figlio di Napoli sarà attraversata da una delle più imponenti manifestazioni di immigrati sul tema del permesso di soggiorno, con il reddito di cittadinanza e sulla cittadinanza di immigrati sulla Taro Torno. Così come il 29 giugno abbiamo organizzato dopo l'altro giorno una grande manifestazione di Italia a Napoli in un collegamento con Catania, Polonia e altre città del mondo. Quindi noi andiamo ad essere la città dei diritti costituzionali. Abbiamo provato anche a spendere l'altro giorno una pagina di rottura apparentemente istituzionale ma noi l'abbiamo chiamata di obbedienza costituzionale e non di disobbedienza civile che la stendente deve occupare i diritti umani o i diritti primari della Costituzione Repubblicana che stessi con la stessa cosa. Noi a un certo punto ci siamo interrogati alla fine agosto dell'anno scorso in 2012 secondo l'interpreazione burocratica, generalistica, formalistica delle politiche del governo che era per il mondo che mi riasi in un domenico nella nostra città, la sua madre non è e non garantire la perfezione pomeriggiana sulla nostra città perché c'era un taglio di risultato a spendere e non potevamo farlo. Mi accorre che si fa lo stesso. perché le scuole della nostra città sono state chiuse, le scuole pubbliche quando c'è stato il terremoto il coetano nel 1972 o quando c'è una coetano ci siamo mai più. Ma non possiamo in una crisi economica dire che noi riduciamo alla sicurezza pubblica l'istruzione ai diritti primari che sono i diritti umani l'istruzione, il sapere, la conoscenza, la salute e la sicurezza. Allora, in attesa dei legislatori che verranno anche io, che ho detto l'accordo con quello che mi diceva prima le comunità, le città possono fare parte adesso il nostro paese sta, ed è ancora tuttora io spero che sarà sempre di più la comunità delle città accorgo molto favore che l'Unione Europea sta per decidere per la loro ragazione dei fondi europei in 2014 e in 20-20 di assegnarmi una quota significativamente diventare la città io sono un bimbo d'Italia dove di partire la città ma perché? Perché in una città ci sono le sintesi ci sono gli equilibri che si creano quella specie di ordine che nasce dal caos cioè però nella nostra città è veramente più difficile con pariunque e nel mese non riesce a capire come mai riesce a trovare una sintesi tradizionale così diversa allora in attesa del legislatore che verrà abbiamo provato a fare delle cose che secondo me secondo noi non sono sono sicurezza il registro dei decenni per noi l'unica unione che leggerà per sempre è la luna il resto sono costruzioni formalistiche delle regole che c'è un'economo chiesi altre che hanno legislative altre che hanno normativi burocrata per noi qualunque legame ha una sua uguale futilità ognuno si scelte il legame che vuole che amena che sente noi dobbiamo garantire dei decimi diritti a chi sceglie di stare insieme quindi facilità è un registro che è nato che deve crescere anche dal senso dei riquisti della comunicazione e ha un registro non ha solo un valore simbolo ma ha solo un valore di dire non lo facciamo in attesa che il Parlamento lo possa fare noi accompagniamo anche una serie di diritti di un registro il diritto di partecipare a un banco per la destinazione di una casa popolazione il diritto a partecipare ai servizi della città a cui possono partecipare le conti che vengono considerate tra i progetti e le sue che non sopporti normali io sollevano 45 anni se non dire ma ti bisogna di scrivere come si dice il normale non lo so c'è un nostro grande scrittore lavorato nel domenio stavore che ha scritto siamo diventati il paese la normale legalità i normali vengono considerati sui versini e i legali vengono normali che si fanno come le mafie che si istituzionalizzano e si fanno magari le leggi a loro misure quindi sono certi di normalità io non saprei mai credo che non ha proprio una sua definizione direttamente il testamento biologico io mi sono emozionato dagli impatti che abbiamo fatto nella nostra città in Greco in Greco in Greco in Greco in Greco sono state giornate importanti che ci hanno fatto crescere la città vissuta ha recettato e in demogini alla fine anche quella componente ha tolto si è trovato un punto di miglio importante così come abbiamo fatto la cittadinanza volare a fine di un anno ma non possiamo accettare nel 2013 cambiamo dei nostri cittadini nel 25 dell'anno che ha messo un soggiorno anche in cui magari in un suo diritti globale mercato del numero europeo 50 contrattato di Roma si preoccupò di garantire immediatamente la lente della circolazione di medici che è capitale capitale per esempio della persona sarebbero un'unica felice le persone che ora non possono circolare letteralmente i rifugiati liquici bombardati dalla parte della città dall'altro lavorato decidevano di venire il nostro paese no può entrare solo se ha permesso il suo gioco il suo gioco è legato al posto di l'amore e più onesto che ho detto a me di dire ti sparo la caccia bomba dietro ti faccio venire perché vanno mai in quanto ieri io penso che il tema è questo il tema globale è la libera circolazione delle persone del mondo perché è sopportabile questo dato di non garantire la circolazione delle persone allora una cittadinanza morale fine di integrale anche qui non abbiamo fatto su un atto simbolo perché i fine integrali nascono nella nostra edificio e la stradale città noi diamo la carta dei sociali comunali se si hanno figlio e i figli dei napoletali italiani e questi non c'è tanto non ci sono state mobilitazioni popolari non ci sono state non ci sono stati atti di sofferenze impoveranti è bellissimo vedere le scure della nostra città contaminate da colori diversi qua non posso ricordare la straordinaria manifesto di Totele da Tietro Spine di Manodissa a proposito di europea di l'uomo iddine diversità faccio una grande campagna di privato l'evoluzione culturale e l'adversità è un pericolo che gli amo la manda a chi è diverso perché chi è diverso non è peggio in uguaglianza costituzionale ma adesso mi racconta una storia diversa che io però quindi far crescere come un uomo se la nessuno è uguale a me io lo posso parlare di lui dice la stessa di noi e se magari le quindi questo discorso della contaminazione dagli esseri è fondamentale quindi noi siamo contenti e stiamo a fianco delle lotte per i limiti ovviamente nella nostra esperienza è caratterizzata molto la condivisione del principio dei diritti e chiudo su questo ma non una legalità formale che non c'è a partire nel campo ecco perché io riesco parlando di diritti e di giustizia ho sempre più difficoltà a parlare di legalità perché oggi atti ingiusti e l'abuso in potere vengono proprio dalla legalità la parla lo sa il resto è andato nel senso decennio i giuristi tedeschi parlavano di abuso del diritto uso illegittimo del diritto e uso illegittimo delle norme anche con diciamo la carta da contro cioè le discriminazioni anziati formalmente erano a posto quindi io interrompo che non avevo un'uropa formale e questo appartiene al tema dei limiti al tema delle mafie al tema dell'eliminazione degli interessi oggi il magistrato scopola quello di l'indicolo tritolo con la carta della polvo e quindi con la legalità formale ecco che la trattata è soprattutto i litti e giustizia per poter crescere anche la legalità formale che deve essere secondo me sempre di più legalità costituzionale e sempre più vicina ai trattati delle dichiarazioni dei diritti di l'uomo dei grandi trattati che hanno segnato la storia dell'umanità oggi è il momento di mettere nuovamente al centro la persona nuova nece le cose il capitale in una rinunzione di un termine che sta portando una liberata libertà e molto diversa ma lo meno liberismo dominante del pensiero quindi grazie di aver scelto l'uomo siamo contenti anche con il saluto di oggi di un'ultima di un'ultima volga di un'ultima di un'ultima volga che ci potrebbero vedere sullo stesso livello di attenzione e di impegno perché non è vero che le amministrazioni comunali possono benissimo allearsi con le associazioni di un certo tempo lei forse sa che la nostra associazione è soprattutto impegnata come dico io per strada noi abbiamo incominciato ieri il nostro congresso comunale di un'ultima di un'ultima la situazione di un'ultima che lei la conosce siamo stati giuri di visitare insieme a un deputato di un'ultima che ringraziamo molto per le cose che ci ha accompagnato in questa visita abbiamo visitato un'associazione che conosciamo già bene e che continuiamo a riuscire a modificare ad attivare i meccanismi che siano strutturali per le cose una delle cose che facciamo che io definisco per strada è che in assenza di capacità incisiva da parte nostra sulle forze del Parlamento noi abbiamo scelto la via di un'ultima tre anni fa all'inizio della nostra esperienza in un dibattito per lì famoso delle storie che è che non è che non faccia mai ci disse in pace a lungo esattamente i diritti non si chiedono di diritti i tribunali non servono per riconoscere i vostri diritti e la storia è esattamente la storia è esattamente la storia laddove c'è un registrato laddove c'è un tribunale che è attento non soltanto alla formalità della carta ma la sostanza i tribunali possono essere in un luogo importantissimo dovrebbe chiedere riconoscimento di quello che nella carta costruzione c'è già e nelle carte europee c'è già e che il nostro tribunale non ci riconosce c'è un'ultima cosa che le volevo dire che è questa che è una proposta e la faccio pubblicamente nei primi dei suoi obiettivi di scontare e 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 di scontare uno degli strumenti più importanti per l'avanzamento della campagna sulla libertà di matrimoni negli Stati Uniti è stato con il marzo di esempio un manifesto attello che è fatto ai sindaci dell'amministrazione di scontare i pensi è stato un documento correntissimo e hanno firmato i sindaci di conoscere i sindaci delle città ma anche tanti sindaci di città piccole di città di metri e che anche quello ha un valore non so tanto formale ma è stato molto forte perché la presenza di posizione chiaramente di dove stiamo da che parte stiamo lei su questo tema mi si è già risposta ha detto di essere favorevole alla linea di un'igualità perché noi ci hanno detto che tutti i città di questi i cittadini di città di un'igualità magari di riformare un po' per migliorare ecco se se volesse essere insieme ad altri sindaci di questo parere firmare un grande affetto di sindaci per la libertà di matrimoni per il matrimonio per l'Italia perché le famiglie tornino al centro dell'attività del nostro paese ma tutte non soltanto tutti ma tutte queste cose devono essere un po' non direttamente adesso sono benissimo ma non posso rispondere perché senza gli impegni sono tanti assolutamente sono d'accordo a questa iniziativa e così come si è fatto su partagli importanti prendo un impegno a scriverlo a scriverlo direttamente io e farlo girare tra le amiche e amici che amministrano città grandi quindi questo lo farò lo farò senza altro poi aggiungeranno un'altra cosa sui detenti se passate dal palazzo siamo già qua di fronte e trovate un manifesto grande sul palco di fate presto abbiamo aderito alla campagna che è un carcere possibile quindi il tema c'è molto caro in questa oggi è un lavoro importante con le direzioni dei carceri della nostra città per il lavoro dei detenuti in città in modo da favorire i permissi previ per gli insegnanti per esempio nella sistemazione di giardini nella pulitura di atti vannarici sui monumenti nel decoro urbano un lavoro molto importante perché fa reintegrare il detenuto nel tessuto sociale e li fa uscire sempre di più dal cancio quindi anche su questo devo dire c'è un'attenzione molto forte così proprio per chiudere le persone ieri per essere occupati sul tema della costituzione anche qui vuol dire quasi infatti sono un po' più acceso con la componente diciamo cattolica della città però anche su questo noi abbiamo detto sicuramente un no fetolo a ogni forma di repressione la repressione per riguardare la tratta di essere umani in generale in particolare di essere umani morenni ma noi siamo assolutamente contro la repressione delle vittime o di chi sceglie di fare qualcosa quindi in questo anche c'è un lavoro interessante che sta andando avanti molto bene anche con le associazioni che operano del territorio e devo dire anche con la sensibilità delle forze istituzionali con queste forze sull'inizio di stare con le associazioni città che c'è una componente molto sensibile e neanche l'agrivo per le prossime settimane non è anticipato perché non è molto sentito ma ci siamo delle movimenti che fanno proprio nel senso dell'accoglienza dell'integrazione e dell'avvicinanza di fronte a quello quindi ci vedremo ora sotto speriamo di tornare questo e al fatto di passare grazie grazie molto il sindaco di Napoli per il suo intervento procederei velocemente con la parte diciamo così istituzionale del nostro congresso metterei in votazione la proposta di ordine del giorno del regolamento la proposta di presidenza che ho prima veramente illustrato il favorevole dico che a prima verde ve l'ho annunciato farlo vedere grazie giù che a prima verde chi è contrario chi si astiene benissimo le proposte sono a quattro lato continuiamo con intanto mi invito a prendere il vostro al tavolo sono molto molto benvenuti mi sembra che sia Sergio che mi hanno scritto mi hanno scuro anche se mi hanno come si prende il posto e continuirei con i saluti istituzionali ci sono stati annunciati quindi siamo molto contenti c'è confessato il ministro Fornero che adesso nel 5 regno è 20 luni si devo accettare qui presenti come il manipicolo che potrebbe essere un caro amico da tanti anni non posso parlare da qualche anno quindi siamo molto contenti di averlo con noi che qui oggi è speciale perché rappresenta l'USA l'Ufficio Nazionale di Asseminazione Nazionali e da qualche tempo dal TEC in cui il ministero si occupa anche di questi legislativi con il l'unico che si è molto in passato che ho fatto in quell'amministrazione di l'Umbanda ci portavamo il saluto di Duna e poi c'è che salutiamo con un profetto tra le romani Presidente della CIGA nazionale se vuole mettere la parola a il presidente della consulta per la lezione delle istruzioni di Napoli Giancarlo e siamo molto contenti che sia qui se vuole la parola a allora io leggerei adesso io leggerei adesso il saluto del ministro del San Forbero ma se vuoi prendere le porte poi si può il giuramento si si il nostro presidente l'autorità signori rappresentanti dell'associazione di vita l'affermazione dei diritti la promozione delle varie opportunità per tutti il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione rappresenta indubbiamente il presupporto necessario per realizzare una società tenamente inclusiva solidale e sostenibile che valorizzi le differenze come risorse preziose in grado di contribuire alla crescita economica e sociale del paese la tutela dei diritti delle persone lesbiche dei disessuali e transessuali riguarda pienamente la materia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sensibili dalla Costituzione e da unioso comitato nazionale sono fermamente convinta che tali diritti debbano essere riconosciuti da ogni individuo senza alcuna eccezione poiché garantendo i diritti delle persone lesibili si afferma un principio basilare della democrazia e del rispetto della libertà e della dignità di ciascuno purtroppo ancora oggi le persone le diritti sono vittime di atti discriminatori o violenti spesso perpetrati sulla base di pregiudizi e stereotipi il contrasto dell'opofobia e dell'etansfobia rappresenta quindi una sfida che dobbiamo affrontare dell'evoluzione e dell'innovazione sia sul piano di qualche ruolo che su quello culturale con l'unito del lavoro e delle politiche sociali con delle quali opportunità proprio la scorsa settimana ho partecipato alla conferenza internazionale di carichi dedicati ai diritti delle persone legittive durante la quale si è rivalita con forza la volontà dell'Europa di agire politicamente perché a livello internazionale europeo e dei singoli stati siano garantiti i diritti fondamentali e si è innanzato il livello della proteca sono convinta che l'azione comune sul piano internazionale non potrà che rafforzare la possibilità di raggiungere i risultati positivi nel contrasto di queste cose proprime di violenza e di simulazione e aspito per se forse aggiungere l'avvenzione di miglia e guida sui diritti delle persone di gbp da parte dell'Unione Europea e di una nuova risoluzione di procedimenti di parte dell'Unione Europea che quanto riguarda il nostro paese ho fortemente sostenuto la regione dell'Italia tramite i dipartimenti per le pari strutture d'Italia e l'ufficio nazionale per le segnazioni per l'UNA al progetto per il contrasto delle segnazioni basate sull'identità sessuale e sull'identità genere promosso in attrazione della raccomandazione del 2010 in questo contesto l'Italia adotterà a breve una strategia nazionale condivisa con le associazioni di istituzione di parte speciale ritendo che la strategia nazionale presentata al scorso 14 febbraio delle associazioni dei gbp costituisca una grande opportunità sia come uno strumento di produzione effettiva dei dipartimenti sia di crescita con l'intera società italiana indubbiamente che esistono ad oggi ostacoli all'aggiungimento dell'esercizio di la parità dei denti siamo tutti consapevoli che il nostro paese si sfonta dall'attratenze del progetto di diritto normativo auspico quindi che il nuovo Parlamento nell'ambito delle sue delegative di istituzionalità possa approvare finalmente una norma specifica contro una categoria che ritengo essere una norma di cività urgente e necessaria auspico inoltre che presto la parola del conoscimento giuridico dei diritti delle coppie dello stesso sesso come sollecito oltre che i numerosi comuni europei della stessa corte costituzionale vanno in risposta alle istanze poste della società sono convinta che l'intervento normativo debba necessariamente essere accompagnato anche dal cambiamento culturale profondo a partire dal mondo della scuola sinché l'importante prevedere il rapporto di sensibilizzazione sul tempo del 21 successore dei casi del genere per prevenire il disagio per passare il contismo in un luogo di transphobico per favorire l'alternazione della cultura delle differenze e del rispetto dell'altro anche la consapevolezza delle competenze soltanto che anche tutte le persone i diritti fondamentali e riafformando il valore universale dell'indirittura e del rispetto delle differenze individuali potremo costruire un modo migliore e più libero un modo migliore e più libero con questo auspicio esprimo all'associazione di carriera grazie a diritti i miei libri per lo svolgimento del lavoro del congresso del Sato di Nero grazie grazie ho messo la parola all'amico il sottore di rappresentante dell'unica spagna e tutto grazie 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 la citata di volte mia vicinanza all'associazione e all'impegno per le diritte su il titolo confessale che mi sento sempre imbarazzato quando rappresento l'ufficio nazionale dell'inscrizione nazionale della presenza del consiglio di contesto e mi sento mio in una maniera di regista e quindi sono imbarazzato non per questo meno contento di essere qua a rappresentare e quindi di portare al congresso il saluto soprattutto del detettore generale e del consigliere parlo del gioco come citava anche a ministro cornello l'unica è stato istituito nel 2003 per il dettivo europea con lo scopo di garantire la parietà di trattamento delle persone sono esterni di contrastare le azioni di interazione di discriminazioni basate sulla etnia io cerco di usare il meno possibile la propria razza che è pure presente nella comunità per esempio io voglio ripetere che dal 2010 per volontà del ministro Berbani rapporzato poi nel 2011 anche dal ministro Ornero Lunar ha esteso la propria attività di tutela a tutti gli ampi di discriminazione previsti dall'Europa e quindi anche basato sull'orientamento sessuale sull'identità di genere personalmente mi corre l'obbligo di sottolineare che questo passaggio di ampliare l'ambito di discriminazione previsto partire dall'Unar a tutte le discriminazioni con me in particolare cosa che non è sempre solitata all'orientamento sessuale di identità di genere e credo che questo abbia fatto dell'Unar un ufficio più più volontante per tutte le persone vittime di discriminazione quindi su questa base oggi Lunare si occupa di denunce di case di denunce eccetera di vittime di discriminazione anche di orientamento sessuale di identità di genere quest'azione dell'Unar a mio avviso ha sicuramente anche incoraggiato le denunce di vittime di discriminazione sessuale e transessuali come dimostra nei casi che arrivano al nostro contact center di cui mi piace sempre ricordare il numero 890 10 10 e che quindi forse anche per l'alchiamento registra sempre una come dire un trend in aumento che secondo me è positivo perché vuol dire che si ha più consapevolezza più coraggio insomma c'è più informazione e quindi le denunce sono anche più incoraggiate in questo senso quindi mi corre l'obbligo di come dire di ricordare su questo passaggio il servizio di eccellenza che una rapidata da Cighei il servizio di percorsi per una consulenza specialistica sui casi di discriminazione non sessuale e transessuale è stato voglio dire tra i vari percorsi voglio dire il migliore però sicuramente dall'altezza della situazione che gli operatori sia che non ci sono sono stati sostituiti di recenti con quelli che si sta riavviando una seconda fase in questo momento ma personalmente il servizio di Cighei è uno strumento prezioso per l'una e credo anche un servizio prezioso per la comunità e le città questo dal nostro osservatorio e mi piace anche ricordare che è stata preziosa la costituzione di un tavolo transessuale presso la presidenza del consiglio che ha visto sia nel 2010 che nel 2011 anche grazie all'apporto delle associazioni transessuali anche delle patrie sociali per salutare il signor che è stata presente in un conto in parte di proprio in quell'occasione di un tavolo transessuale e grazie anche ai documenti già presentati da Cighei di associazione hanno costruito un nuovo documento validissimo soprattutto in campo lavorativo Luner ha aderito al progetto come diceva il ministro Cornello promosso dal Consiglio d'Europa sul contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sociale sull'identità di genere anche qua io esprimo la soddisfazione di tutti per l'apporto delle associazioni che sono state voglio dire impegnate in diverse già al momento in cui erano presenti rappresentanti l'associazione transessuale è un settore particolare con le associazioni transessuali e che quindi hanno contribuito con i loro rapporti che devo ricordare che è sicuramente anche molto incisivi nel contributo dato per la stesura della strategia nazionale per garantire varie opportunità alla comunità e alla GDV siamo mossi sul lavoro su quattro assi che abbiamo ritenuto importanti che sono stati anche condivisi dall'associazione educazione istruzione lavoro sicurezza e carceri comunicazione e media quindi devo assolutamente e questa mi sembra che questa strategia è impostata attraverso il metodo della partecipazione attiva perché abbiamo incontrato non solo le associazioni ma anche i fatti sociali l'ostati media e la rete e la l'anci quindi è stata una consultazione secondo me molto profonda approfondita e oggi questa strategia è in fase di ultimazione nel senso che si chiama la porta di sistemazione definitiva per essere definitivamente pubblicata sul sito dell'UNAR tra qualche giorno quindi dopo la pubblicazione dell'UNAR procederà diciamo a momenti di attuazione attraverso bandi progetti in modo che le denuncianti della strategia possono trovare un'attuazione pratica e dopo di questo come qui suga sempre come UNAR sono veramente felice perché con lavoro tutta davanti anche da me come membro del tavolo tecnico come il 60 dell'UNAR nel tavolo tecnico della regione di Campania per la sostituzione con la rete territoriale che sono presente in molte regioni d'Italia che non ha in particolare la campagna pubblicato di recente il banco per manifestazione di interesse che si è chiuso in due e sono contento di aver visto tra le zone anche un'unica di Nauri e approfitto per salutare Tenato Masieri che sicuramente è sempre molto attivo che si lascia sfuggire da un'unica zona e sfruttare anche la zona venuta dall'alto e io avendo constatato sia perché condizionato Napoli è stato un luogo non della mia militanza perché la mia militanza nasce a Cotto il Taro ma di partecipazione voglio dire una riprestazione anche di una vita sociale insomma io mi ricordo che negli anni 70 la lingua ufficiale del mondo del mondo del mondo del mondo soprattutto quando sono supervenuti da Pc. questo non lo dico come una risonazione di un anno 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 per cui voglio dire io sono testimone del fatto che Napoli come diceva insomma di un anno 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 gai di un anno di un anno di Sanabiano, il rai di Salerno, il quale è stato un anno fa, ma è stato per me straordinario, emozionante, perché si è ritrovato un po' l'entusiasmo dei primi rai, dei primi momenti di battante, per cui mi auguro che anche questo sia un servizio per le venute, ma anche una crescita culturale, perché le istituzioni, assieme all'associazione, non hanno solo il dovere di essere, che lo posso dire, promuovere atti amministrativi con questa tendenza, ma soprattutto di promuovere con una torta di cultura diversa. Grazie. Grazie molte, Vanni, continuiamo velocemente con i saluti, volevo però approfittare dell'intervenzione tuo e dell'elettore del Ministro per ricordare due bellissime cose, così a confesso anche della presunzione dei diputati, dei senatori che ci possono ascoltare in diretta. Noi abbiamo grande attenzione e seguiamo moltissimo la vita dei ministeri, le numeri di queste materie e il manico testimoniare, ma anche il corso testimoniare, che le nostre interventi sono sempre stati, i tempi costruttivi e sempre, no, i contributi fattivi. Dopodiché mi permette di segnalare due cose, credo che la strategia nazionale debba essere adottata con un atto formale del governo. Così è stato in Francia, così è stato in Londra, così è stato in Danimarca, così è stato in tutti i paesi che hanno seriamente preso sul serio l'indicazione del Consiglio d'Europa, perché non c'è nulla da togliere dalla propria del luna e dell'indicazione del luna, né che la pubblicazione sui documenti non sia sufficiente per l'indicazione del luna, ma il governo deve dire le cose esplicitamente attraverso i dati formali che il governo usa. Cioè, essa fra me è un rischio sulla cui disponibilità personale, io ci conosciendo e conoscendo la persona, il problema non è quello, è il governo che si esprima, è il governo che deve essere andato a fare. E se il governo non ce la fa, può fare il Parlamento, eh? Le commissioni possono adottare, perché non c'è un programma di segnalare. Quindi, come dire, se le commissioni si potessero unire potrebbero fare questo lavoro. Altra indicazione, forse un po' tecnica, ma è l'appunto lì, perché chi lavora in questo settore lo deve sapere, questo è un momento straordinariamente importante per tutte le politiche contro l'esclusione sociale, perché si sta discutendo a livello nazionale e con l'Unione Europea i fondi strutturali. Mi citavo e sì, la domina. Una delle decisioni storiche che l'hanno prese sarà quella del fondi del territorio nazionale. Se la lotta contro l'esclusione non viene inserita esplicitamente lì, a livello del fondo, cioè del piano nazionale, sui fondi strutturali, che parlano soltanto del fondo sociale europeo, l'arco del terzo, cioè di tutti i fondi strutturali che arrivano in Europa, noi perdiamo una questione storica perché quelle sono le uniche risorse che avremo per i prossimi sette anni, non c'è più di soldi. Quelle sono le risorse che possiamo usare. Tutta Europa usa i fondi strutturali per fare l'opera dell'esclusione, comprese per esempio per la costruzione, tutta Europa usa i fondi, noi pochissimi. Ci vuole un passaggio formale di assunzione importante di responsabilità in questo ambito. E guardate che lo scherzetto è molto facile da fare, perché l'Unione Europea ha individuato 18 obiettivi, non uno, 18 obiettivi, tra cui anche quella della lotta a conto dell'estimilazione basata sull'evento nazionale di strada di genere. Peccato che abbia lasciato negli Stati nazionali la libertà di scelta di scegliere 4 di questi 18. Allora questa è la chiave per distruggere questa possibilità. e se non si sta attenti, il governo, perché qui il governo che ha potere, il parlamento con il Serena, il governo che ha potere, se non si sta attenti, noi prendiamo questo treno per arrivare adesso. Scusate questo inciso però, non le potere, male sapete queste cose, quindi tutte le vedete, però credo che siamo più importanti nel diverso tutto, ossia consapevole di questi due passaggi. Molto poco glenni, ma sono sostanza, sono la sostanza che noi dobbiamo lavorare per il prossimo anno. Quindi ritorniamo alla fase dei saluti. Prima di leggere il messaggio dei comuni, dei saluti, se riesco a capire il cedere, il prossimo ragazzo, per esempio, il tecnologico del console generale dell'Unione degli Stati Uniti, vorrego ringraziare per la presenza di Marietta Amico, che non è stata una docente favore importante, ma posso fare un titolo di attivista per gli uomini. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Noi stiamo osservando un po' come tutti la situazione italiana attuale, stiamo osservando questo fallo di queste settimane, Grazie a tutti. 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 , a tutti. su. , 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 ,, , , ,, , , ,, , , ,, ,, ,, ,, ,, , ,, , ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Qui c'è, ci sono tante contraddizioni, però nessuno prenderà il tempo di elevarli e di, diciamo, confrontarli e di si oppone con le loro contraddizioni. Quindi fermo qui, però spero sia stato buono, siete per la prossima. E' stato veramente utile, è stato utile per la sostanza delle cose che hai detto, ma non voglio sottolineare, è stato utile per il medico che gli ha indicato. Quanti di noi, quanti nel nostro movimento si sono messi a studiare come gli avversari del Pino Temorio si stanno organizzando? A parte la distruzione di Bindi, della Bindi che non fa, ma mettersi a studiare che cosa sta succedendo, come si stanno organizzando, che tipo di dopismo hanno in mente loro e che stanno costruendo, e che tipo di dopismo noi dobbiamo costruire. No? Finalmente, magari, tornando questa parola, che non è la parola che si possa provare, perché, eccetera, 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 perché la nostra cultura è americana, anche noi, italiani, no? Tutto quello che arriva dalla cultura, non sa, se ne è volato, è diretti, come è, e invece no, è un gruppismo serio, sano, trasparente, è quello che noi dobbiamo costruire. Quindi, a mio avviso, io trovo un intervento di livelli molto, comunque, da sopravvivere nel mezzo, perché era quello che, è quello che dobbiamo costruire, non è una strategia, un modo di stare insieme per farci un obiettivo, anche per tentare di raggiungerlo, e per interlocuire con i nostri parlamentari, come dice lui, no? Nel confronto, nel diparto, ma anche nell'aiuto dei parlamentari, perché non è detto che i parlamentari sappiano che non ci sia la feria. L'abbiamo visto in tante situazioni, quindi grazie a te la gioia, e so che non ci continuerai a seguire, anche nell'attività di seguire, e quindi possiamo portare a tutti te. Adesso la parla ad Adrian, e direi così continuiamo il dipartito personale, poi i video li facciamo passare dopo. Adrian Trenza, grazie per essere qui, Adrian è, secondo me, un'altra esperienza molto interessante per voi, come sapete in Gran Bretagna sta succedendo una cosa che è davvero interessante, il giocamento politico, perché lì è Camera che ha voluto reggire il giocamento politico, accanto il suo partito, coinvolgendo le protezioni e facendo un'azione trasversale che sui diritti è fondamentali, se non è fondamentale, in realtà sui diritti è l'unica azione vera che ci porta un risultato. Adel è il responsabile nazionale, il presidente nazionale del gruppo gay, del partito libero-democratico, ci piace molto, perché come sapete noi di Gran Italia conosciamo lavoristi e conservatori, in realtà il partito libero-democratico ha e ha avuto un ruolo molto importante, dove toccano, perché quindi siamo molto contenti. Grazie. 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 Buongiorno, Giorgi. Grazie. 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 è iniziato nel 2010, sotto la simulazione delle contraddizioni tra il libro del testo e il conservatore. Il nostro gruppo abbiamo capito che noi avremmo potuto usare questa possibilità per migliorare e rafforzare la vita delle operazioni di sessuali e di trans. Perciò il nostro gruppo abbiamo scritto un'emozione che si chiama per uguali matrimoni o meno l'unico dito della conferenza federale del libro del passaggio nel settembre del 2010. Dunque, soltanto cinque mesi dopo il nuovo governo di aver cominciato il processo. C'è una capacità che questa emozione potrebbe stimolare gli movimenti perché anche i nostri colleghi di collezione, i conservatori, avevano anche i primi giorni a domandarmi su questa discussione nel manifesto del 2010 per le ottimizzazioni. Comunque, sia in tutti gli attivisti LGBT, conoscono anche questioni politiche di questo tipo sempre insiste parole e commenti antinomistiche della comunità che sentiamo sotto assidio da nuovi tutti gli visti e cambiamenti nella società durante gli anni di genere. Dunque, il nostro gruppo ci siamo aspettati una lotta lunghe. assolutamente perché il governo ha deciso di fare una consultazione con tutti i compiuti, a ascoltare la persona e la persona opinione. In queste situazioni il Reggio Unito non è il primo Paese di comunicare le leggi, ma la reazione dei certi gruppi sociali, specialmente le chiese della Lutera, le chiese erodiche, e quindi per i delitti delle gambe politiche abbiamo lasciato queste questioni più politiche e delle carruzioni delle informazioni con tanti commenti e altri tipi su questo problema. Molti sentimenti che ho perdito in tutta la scritta che esistrua le esalti. Nonostante le reazioni estremi, il nostro governo è in mano a mano. Ha continuato con il processo legislativo dopo la consultazione, è annunciato alla fine del 2012 che il Parlamento metterà a fare la legge. Prima di dire come la situazione è in questo momento, ci sono quattro cose che credo sono molto importanti. Prima, si è assicurato che c'è sostegno da partiti politici da ogni parte perché i diritti fondamentali non è una scelta. è la più grande collettiva e particolare per i delitti delle cosiddette che viene più sessuali a clienti, è più facile di dimostrarsi la necessità ai editori. Non ci credo che ci sia il problema che rende l'unito, oggi che in un'istoria particolare avrebbe il più grande delitto e matrimonio di cui l'ansia è in questo modo con la questione di azione. Secondo, si è assicurato della legge, anche nella nostra situazione, la nostra azione alla conferenza è inclusa da tutti i persone in ogni gruppo con le esigenze da tutti i consigliere e da tutti i consigliere. Nell'inimitino noi avevamo già articolato per i civili lavori, ne avevamo più in medicina per esplicare delle risorse. però molte persone pensavano che queste leggi erano sotto lo stesso stato con matrimonio e una protezione sessuale. E dunque c'è differenza tra i benefici non soltanto un ostacolo enorme ma dinanziaramente è arresto. è anche per caso che queste altre casi nel mondo avevano già costituiti matrimoni per i gai e per i sessuali trans masoni per esempio la Spagna, l'Orlanda, l'Argentina e dunque queste tecniche non erano compatibili con i civili lavori con questa formazione. A terzo, per me c'è soprattutto il nostro scelto. Ciascuno potrebbe scegliere le loro scelte come queste gialle e definire le loro abbandute. Ciascuno potrebbe amare come e chi senza il loro genere o lo Stato o la Chiesa quali accettabili nel nostro settore. E finalmente su questo punto è il processo di cambiamento. E questi paesi che sono a linguaglie di ripetà dove danno aiutare questi paesi che sono indietro. Particolamente dove c'è il sostegno estremo per concedere l'occupazione di religiosi a danno da soli l'esercizio e l'esercizio. E' una cosa che è fondamentale da ripetà di ripetà e di diritti del mondo. Tutti i paesi i modelli devono avvenzare i diritti di esercizi persone attraverso il mondo. Dunque, punto. situiamo tra situazioni nell'unito adesso. Da gennaio, dopo l'annuncio delle proposte per la legge, si chiama il stesso progetto di legge e ci sono ragioni per questo titolo per dire dopo. In inglesi di credenza? Stasi in sex. Stasi in sex? Stasi in sex, sono differenze di... in un'unità... ma la compagnia per il macchie mondiale di inguoranza ha concentrato su parti politici e come andranno a votare nella seconda legge del progetto di legge. Nel febbraio 5 2013 è voto sulla seconda legge del risultato nel favore di 400 persone con 275, dunque una maggioranza di 225 persone. È voto sul principio delle legge in un buon risultato. Tuttavia, durante i prossimi mesi ci sarà oltre voto nelle Camere parlamentari e soprattutto nelle Camere Valorose, dove i nostri attivisti conoscono che noi dobbiamo fare opinioni sull'opinione di assicurare la legge di venire parte del successo per questo governo dall'admospettiva di progetto di legge di legge di legge di legge di legge di legge. Allo stesso tempo, potere è molto importante per le campagne di bene e forte organizzazioni che non sono politiche, circostante del sviluppo, nella stampa, nella radio, nella televisione e soprattutto nell'influenza delle medie sociali, sia il Facebook e il Twitter. A questo riguardo, noi abbiamo unito una coppia dell'individuo che hanno deciso di creare un sito web, coalizioni come anche molino e guardano, che presentano un punto di contatto con tutti gli attivisti di Siguero e Infrancesco, e spaventati nelle campagne con aggiornati arregolari e semplici delle lettere secondo me a causa di aiutare gli attivisti che fossero un'attivisti che fossero un'attivisti che fossero un'attivisti che fossero un'attivisti che fossero un'attivista. Attentro a questa univazione, oltre a siti come Out for Marriage, dove persone calmosi o serenità hanno fatto un'attivista breve per ragioni incredibili in un'attività di aiutare gli attivisti. Queste iniziativi formano una decisione forte per quale gli attivisti da tutti i politici e partiti possono circolare in uno spazio qualche partito. è anche la stanza che, come Pink News, è possibile creare le campagne in un'unità senza fare le problemi di rischi di partiti, se verbole, che non ha paicino la campagna in un'unità. Io dico che, su questo titolo, il Saint-Sex-Tapos, dico sul nome della legge, perché le proposte a questo momento non completamente sicure si guardano le emozioni delle politiche democratiche di conferenza, intanto noi continuiamo a spingere per altri cambiamenti delle proposte legge, particolarmente per le persone transessuali, sui diritti di pensione, ma se non è il prodotto dello Stato, è una cosa molto importante, ma anche il permesso delle persone transessuali di avere un titolo di lavoro. Questo vuol dire, un adottore, ma anche un'unità di incidenza. Tutti questi soldi hanno un'attività di scelta, varie, di un lavoro. Dunque, tutto questo non è sempre possibile di vincere tutti la battaglia, ma spero che noi possiamo parlare della maggioranza di questo. Dunque, insomma, la campagna ha bisogno di croce partiti di campagna, è molto, molto importante, insieme ad altre organizzazioni che non sono politiche, che commuovono anche il messaggio di matrimonio. Grazie. Grazie a molti altri, ci sono molte cose in comune con la situazione francese, con quello che si sta diventando, quello che il movimento sta facendo, molto importante che, voglio ricordare che la situazione grande inglese ha gruppi gay, che si è diventando il partito, ma sono molto importanti i gruppi più suoi, cioè dentro il business, no? I gruppi interni che fanno un business interno, dentro qualche consagratore, c'è un gruppo forte, dentro il gruppo localista, c'è un gruppo forte, dentro i gruppi che vengono da domicare. In Italia, purtroppo, però, magari, perché ci sono più alti, in realtà, eh sì, appunto, sarà questo. Allora, c'è un piccolo cambiamento rispetto al programma, siamo, tanto per cambiare di ritardo, quindi, ahimè, non vi facciamo vedere adesso, questi due video che avremmo per il risposto, perché vogliamo lasciare lo spazio, il più possibile, ai diputati sanatori che hanno voluto essere con noi, perché siamo tutti qui, perché hanno avuto il dialogo con loro. i due, ehm, i due video, sono due video molto importanti, che se ce la facciamo, ce la vediamo stamattina, se non sicuramente oggi, e sicuramente, sul sito di, sul sito di Centro Diritti, tutti i video, tutti i video che abbiamo avuto, li presenteremo, sono, come ho detto prima, responsabile della campagna, uno degli attivisti, più importanti della campagna, sui giornali degli Stati Uniti, e l'altro è, questo nostro amico argentino, come ho detto prima, la storia argentina, c'è un video che è molto avanti, lui ha fatto un luogo, e ha preparato un intervento, proprio sulla strategia, che l'Argentina è stato sviluppato, quindi in Argentina, ahimè, orsi, c'è una regola, tutti i video di sede, tutto una serie di questioni. quindi, grazie, e io comincerei con Sergio, se vuole, Sergio Lo Giudice, del diparto IPD, il nostro amico, da Tavriani, che ha visto da Tavriani su questi temi, a te la parola, hai seguito tante cose, che non c'è bisogno di dire, a te la parola. Sì, grazie Enzo, grazie a tutti i diritti, per questa occasione, vedo veramente poco, non so che intanto, dobbiamo andare via presto, e qui c'è quello di essere molto sintetico, privato, interrompire con la serie di questioni, che sono messe in questi due giorni. Con una premessa, che questa, la presenza in questa sede, appunto, di diversi deputati e senatori, letta in lettura sinottica, con suggerimenti che ci davano gli amici inglesi e francesi, credo che ci debba dare un'indicazione di lavoro, parlo anche della sottolineatura che faceva prima, soprattutto sul tema del medio, che cerchiamo di costruire, una procedura di regolazione strutturata, tra chi sa il Parlamento e le associazioni, cerchiamo di fare in modo che, quella attività, da un lato di suggerimenti, informazioni, come costruzione di proposte, rispetto ai parlamentari, e dall'altra, l'altro aspetto molto importante, che è quella dell'attività logistica delle associazioni, rispetto ai parlamentari e senatori, funzioni del movimento, perché tutti noi sappiamo che non funziona il movimento, perché noi sappiamo che è un elemento di carenza di questo movimento, quello che diceva essere effettivamente presenti. E a fine una, noi questi giorni stiamo discutendo il Parlamento del decreto Valduzzi, del Ministro della Salute, sul tema delle terapie staminali e della cosiddetta stamina, ebbè noi siamo arrivati a provare, a votare il Parlamento sull'olta di centinaia e centinaia di mele che è il grande migliore, e che quindi hanno in qualche modo, condizionato, in un senso o nell'altro, anche le decisioni di consapevolezza, se non fosse altro per la percezione di un movimento sociale effettivo che su quel tema era fatto. Quindi attenzione a non perdere occasione di questo tema. Tutti noi stiamo presentando il proposito di legge, in questo senso io ho presentato per adesso tutto il proposito di legge, sulle norme contro le discriminazioni matrimoniali, che è una proposta di legge sul matrimonio molto secca, molto netta, molto chirurgica, che propone di modificare tutte quelle parti del codice civile in cui si fanno riferimento a mani e te moglie per estendere in maniera secca, senza nessuna altra modificazione, l'attuale legge sul matrimonio all'effetto di questo senso. Un'altra, invece, quello proprio di designazione motivata dell'intervento sessuale dell'intera di genere, che riprende la storica, invece proposta del movimento legge dell'intervento sessuale dell'intervento sessuale e dell'identità di genere. Ci sono altri elementi in cui bisogna intervenire. io sono in contatto con le, le, adesso tra alcune, queste giorni, queste domande, sono tutte delle associazioni transessuali perché si arriva all'inunzione di una proposta particolare sul tema della possibilità di riduzione caragrafica del sesso senza la modificazione delle caratteristiche fisiche, insomma, senza l'operazione chirurgica, perché, appunto, vuol dire, è un tema molto delicato, insomma, una posizione molto diversa all'intervento di transessuale e alla possibilità di andare, io credo, in maniera molto attenta, insomma, a definire una proposta che possa essere condivisa da tutti e poi ci sono tante altre cose. Rispetto alle tante altre cose, io voglio fare una serie di considerazioni molto rapida. La prima riguarda un tema molto importante perché prima lui di finirsi evocava, cioè il tema della pluralità dei momenti giuridici, ora, dei momenti giuridici, quindi, come ci sono le coppie. ora, è un tema molto importante e credo che, vuol dire, contando le consenalità, noi bisogna che affrontiamo sia il tema che veniva proposto in una pluralità di istituti giuridici di conoscimento delle coppie, politiche, è il caso della Francia, che sta arrivando al matrimonio, al senso del matrimonio senza l'andona del PAS, per esempio, positivo, e poi, dall'altra parte, c'è il tema dei coppie di fatto, che, io dico, all'Italia, non è un istituto giuridico, ma, normale, nel senso, che, anche la coppie di fatto, c'è anche una persona di strategia politica, per cui, per esempio, io, ritengo, che, oggi, che, che, porta sul piatto, il tema di una legge sull'Unione Civili, intesa, come, l'Unione Civile, rivolta a doppie dello stesso sesto e dillo stesso diverso, che si parli del PAS, che si parli di altre proposte, oggi sarebbe, dal punto di vista comunicativo, contro i progetti, perché, noi abbiamo, da ripostare, che non è facile, e non diamo niente per scontato, su questo, una comunicazione, dei nostri individui, che, oggi, è orientata, sul tema, puro e semplice, dell'escrizione del matrimonio, rispetto, alla storia, che era riproposta, giuridico, per proprio, non ci sarebbe, delle progetti interno sessuali, quindi, noi, su quelli, il rischio di fare una grande confusione, in generale, una grande confusione, su questo c'è. Quindi, ok, dobbiamo essere molto chiari, rispetto, al tema, a fatto che, noi, chiediamo, un riconoscimento, una legge, un riconoscimento, giuridico, delle corte, dello stesso sesso, così, come dobbiamo essere, chiederemo, che, questa proposta, si chiama matrimonio. Dopodiché, noi sappiamo, che, in questo momento, il Partito Democratico, in particolare, ha costruito, una cosa, che ora non c'è, che fa, sono delle proposte, di proposta, che è quella, in un altro senso, analo, a quella del matrimonio, io credo, che, oggi, oggi, non so, che potenzialità, questo Parlamento, perché, non so, se arriveremo, diciamo, a giugno, però, ci potrebbe essere, letto, perché, questo Parlamento, riesca, a recuperare, anche in maniera, più avanzata, rispetto all'attività, che inizia. Siamo in presenza, probabilmente, del Parlamento, più laico, della storia, comunitana, oggi, abbiamo, un centro, cattolico, molto ridotto, abbiamo, un centro, con una forte, missione, delle meditazioni, sia per la storia, di, di, insomma, abbiamo, con una forza, con le politiche, su questi temi, per lo meno, una parte di loro, insomma, si è già espressa, in maniera, positiva, non sprechiamo, questa occasione, facciamo in modo, se noi ci riusciremo, questa, potrebbe essere, una cittatura, su cui, sui temi di diritti, sui temi di libertà, della persona, si riesce, a dare, un'accelerazione, a una, storia, recente, di questo Paese, in cui, su questo tema, le sinistre, o quei pochi, liberali, che stavano, al centro-destra, sono stati, fortemente, condizionati, da, invece, presenze, interne partiti, o da altri partiti, che, invece, tiravano, verso la conservazione, oppure, appunto, verso l'atteggiamento, eh, confessionale, per i temi di diritti, delle persone. e, dico, su altre due cose, che voglio dire, perché, veramente, quel tempo stringe, eh, prima, ehm, Gioetta evocava, un tema, che è quello, della, gestazione per altri, quello, della, della maternità, sorrogata, quello che i giornali, con i temi, che noi, dobbiamo imparare, a spingere con forza, che, io sono ancora, molto lì, affitto, cioè, dire, la possibilità, per una coppia, dello stesso sesso, di, eh, di avere, non solo di gay, insomma, di poter accedere, alla paternità, attraverso, il contributo, di una donna, compratrice, della, gravidanza, e di una donna felice, un tema, in cui, in questo, in questo Paese, non si parla ancora, ed è un tema, su cui, io credo, cominciare, a costruire, un ragionamento, perché, è un tema, complicatissimo, io ci pensavo, ieri, quando si parlava, della prostituzione, come, per la prostituzione, il tema, della legislazione, per altri, vede in campo, non solo, una conservazione, di destra, o una resistenza, a potenza, professionale, ma c'è anche, un pezzo, di tradizione, di sinistra, in particolare, femminista, che, su questo, ha un atteggiamento, di qualità, e lì, non si tratta di fare, la guerra, ma si tratta di, attivare, un confronto reale, di contenuti, per trovare, un terreno comune, di ragionamento, perché, altrimenti, Vigi, rischiavano di provarsi, fra un po', a dover riconosciare, tutto da capo, una questione, su cui, invece, sarebbe, molto importante, agire. Finissimo, dicendo questo, anche grazie, alla presenza, questa mattina, di Vigi, di Magistris, è stato, evocato qui, il tema, di un coinvolgimento forte, negli enti locali, dei sinistri. credo, che questo, quel lavoro, che se ne avessi, è stato portato avanti, in maniera, criminalistica, dalla rete, degli enti locali, delle condizioni, delle condizioni, delle condizioni, dei professori, di genere, debba avere, un trasferimento, di luogo, in una sede più istituzionale, che è quella dell'ANCE. Se il sindaco, in Colombia, a me, non la sede, impegnata a fare questo, in realtà, non ci sono stati grossi sviluppi, però, si può provare, coinvolgendo appunto, altri sindaci, e quella proposta, appunto, di un attivamento dei sindaci, che, come certo, il sindaco di Bologna, firmerà, perché, non si è già spesso su questo, credo che, come viene, possa essere, possa rappresentare, anche, uno strumento, per cominciare a cuore, in sé, istituzionale, il discorso, su un attivamento, appunto, dei sindaci, dell'amministrazione locali, non solo per quanto riguarda un coordinamento, di interventi in sede locale, ma anche con aggressione, rispetto a questa maniera, perché, a base di esperienze locali, per esempio, dei registri non civili, o dei rilasciati attestati in famiglia all'agrafica, si possono arrivare a una legge nazionale. Quindi, la voglio parlare, intanto, cerchiamo, come dire, che sono uno, abbastanza, diciamo, come dire, metodico, nel senso che, penso che, o noi riusciamo a, lavorare sulla organizzazione, e sulla relazione, e sulla costruzione di procedure, rispetto a tutti i soggetti, che ci sono in campo, oppure rischieremo, come al solito, di perdere tempo, e di cercare le tracce. Grazie. Grazie. E' bellissimo. Abbiamo fatto nessun momento, perché vorrei che tutti i deputati e i senatori presenti si ascoltassero, perché, molti non vengono da via, quindi, non vengono da via, poi, i commenti nostri, facciamo dopo. Allora, non lo partiamo. Il senatore, benvenuto e grazie. 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 Mi sentite? Allora, io ringrazio l'associazione, certi diritti per l'indiccio, per l'appunto, con piacere, e ringrazio anche per i cambiamenti di programma, che ci aiutano, perché abitiamo, non stanno, per entrare a casa. beh, faccio solo una piccola, nel senatore, che sono una prima legisatura, e ho preso, confusionalmente, questo impegno, e ho sentito carico di queste responsabilità. ho ancora, dalla parte su questo ruolo, del mondo regionale, delle proprie, e ho pensato, insomma, che bisogna, andare su tre, tre, quattro filettrici, cioè quella di, ascoltare, di comunicare, come si fa, e anche di fare. Sicuramente, sono questi temi, questi tre punti, che vorrei tenere sempre, come linea, della mia attività. Quindi, credo soprattutto, che da parte di tutti, forse parlamentare il passato, la mia percezione, da, da cittadino umano, e quella che, forse, da parte di ascolti, quella che, ascolto i cittadini direttamente, ascolto delle associazioni, che comunque rappresentano i cittadini. E quindi, su questo tema, e anche in questa occasione, io, io ho preso anche con gli appunti, per gli interventi, delle persone, di me, vorrei fare qualche commento. E, uno, vorrei però partire, sul fare. Io, in campagna elettorale, ho fatto delle promesse, che, e quindi, prima, ho presentato, la presenza, dell'esempio, quello, su una dimostra, militare, su una dimostra, una dimostra, che, con la persona, in questo senso, o il tesco, per l'orto, che, abbiamo già parlato prima, la sicurezza del Genocino, e, sulle norme, per la materia di soluzione, della, del tesco, in modo da evitare, della, della, di, 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 il, i, di, di, quindi, queste, sono le azioni, concrete, che, considero sicuramente, un primo passo, perché, per me, è, di avere queste leggi, non è solo per me presentarle, aspettare che non c'era qualcosa, in questo senso, mi riallaccio a certe parole che ha detto anche sindaco di magistris in cui ho sentito dire più volte ripetere l'espressione il legislatore che verrà ecco il legislatore c'è già dal 15 marzo il Parlamento si è insediato però purtroppo non li vede la possibilità di lavorare se non sapete le commissioni permanenti sono quelle che potrebbero discutere i disegni legge i disegni legge ho pensato io probabilmente hanno grandissimi punti comuni con i disegni legge che ha il collega lo dice anche adesso però è un punto in cui la nostra Costituzione i nostri regolamenti prevedono che queste varie idee si confrontino tra i vari interventi politici proprio le commissioni permanenti queste cose non sono state ancora seguite perché l'Italia è una repubblica parlamentare e quindi il ruolo di attività legislativa viene dato al Parlamento in questo momento c'è questa situazione per cui invece dipende tutto da un nuovo governo perché il governo c'è già quello attuale del governo Monti che è in c'è una prorogazio di fatto e deve fare l'ordinaria organizzazione quindi a maggior ragione sarebbe il momento di far lavorare il Parlamento e le commissioni in modo che questo l'ho messo in alto mi ha presentato i disegni legge ma mi sembra riprendere in giro le persone qua si è rappresentate perché stanno lì che giacchiano insieme a quelle degli altri ad aspettare qualcosa che succederà quindi questo dovrebbe iniziare da subito quindi questo sinceramente non è una polemica particolare però per noi è fondamentale questa dimostrazione politica e vuole le concretezze poi anticipo che se per caso anche la via parlamentare è quella tradizionale tra le condizioni di non andarsi bene non è che a noi come Movimento 5 Stelle ci piace la democrazia diretta aiuteremo in tutti i modi ma anche le forme di democrazia diretta che sono quelle dei disegni dei disegni popolari le raccolte firme che ho sentito anche la città poi andando un po' su altri spunti di interesse è venuto anche sindaco che ha parlato del concetto di normalità che lui non capisce e che sicuramente in questo lo trovo abbastanza d'accordo con lui è proprio il fatto che è difficile definirla allora magari ci si potrebbe trovare attenendosi al termine proprio fisicale cioè una normalità corrispondente alla norma e qual è la norma? è la norma secondo le leggi quindi secondo me è assolutamente arrivato il momento per cui le leggi la norma corrispondono alla retta dei fatti tra la malità è sufficientemente matura per modificare la propria legge con questi almeno sicuramente questi personalmente questi tre disegni di legge che ho presentato ma sicuramente con altre iniziative come quelle che ci ho detto per esempio il senatore e il giudice quindi cerchiamo di agire il mio possibile cerchiamo di arrivare a questo a questo punto altri spunti che mi sono piaciuti della il fatto che ho notato effettivamente io quello che temevo e che ho visto sempre nel passato sempre da cittadino perché io fino a il mio giudizio mi ha fatto lavorare in un'azienda non avevo particolare diciamo non immaginavo sufficientemente forse quello che era la realtà parlamentare però effettivamente quello che si bisogna votare è quel problema di chi lo chiamare al primo i problemi militari sono penalti quindi no i problemi militari sono anche questi e non sono assolutamente meno prioritari di quelli di altri sì i problemi del lavoro della situazione però un governo un Parlamento le istituzioni possono fare tanto perché sono tanti funzionano non c'è bisogno di pensare che se facciamo qualcosa contro la disoccupazione non abbiamo il tempo nella capacità di poter fare qualcosa per i diritti per cui sono diritti umani attenziosamente importanti però io ritorno un po' indietro sotto il luceo perché volevo anche parlare con il corso culturale secondo me questo assolutamente bisogna mantenere lo stesso c'è la norma il Parlamento tutto ci deve lo dire però la cultura italiana deve continuare a fare il passo avanti non si può pensare che sia semplicemente il legislativo a portare avanti io faccio un esempio io lavoravo in una societatia con una grossa azienda con più di 1500 persone in Italia in più di tre sedi Milano Palermo e poi ho notato e ho verificato chiedendo a altre persone che su 1500 persone non è nessuno che conosce nessun problema che ha dichiarato di essere o lesbico o omosessuale è impossibile statisticamente è impossibile quindi ci sono tante persone che stanno nascondendo la loro condizione e questo è un problema culturale che l'Italia deve assolutamente superare su questo vogliamo lavorare tutta la società civile quindi le associazioni assolutamente le invito a continuare che io sosterrò come follower che è quella che sicuramente ci dà un risultato diciamo nel momento quindi in conclusione insomma ripetisco il mio impegno per la mia campagna naturale che ho già raggiunto ma che il suo rete continuerà e accolgo tutto in diluvito dei colleghi anche a qualche forma di coordinamento sia tra noi fondamentali ma anche con le associazioni assolutamente grazie grazie a voi 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 per esempio di Ernesto Galli della Lotto, che è uscito uno qualche settimana fa, che sembrava, non voglio essere della spenda, sembrava molto l'attacco dei saggi, dei saggi che siano, del conflotto brutto, giudio, massonico, adesso da homo, massonico. Il giornale italiano non perde occasione di farci sapere che in realtà la qualità sessuale è una minoranza estremamente influente, che controlla i media, controlla l'economia, controlla il mondo degli intellettuali, che in realtà in qualche modo vessa la nuova famiglia tradizionale che in questo periodo non ha vinto alla fine dell'unità, che è il mitico mondo che si usa per creare una sorta di guerra tra poveri, in un momento di grande difficoltà, in un momento di grande crisi, tu individui rispetto a una maggioranza in difficoltà, una minoranza che deve indicare un colpevole in difficoltà della maggioranza e in questo modo metti evidentemente in una situazione di grande difficoltà con l'unità, che è già una minoranza che può diventare anche una minoranza odiana. Il fatto che lo faccia il principale giornale del Paese, secondo me è l'indice del fatto che nonostante ci troviamo avanti un'evento evidente, l'evoluzione del costume, l'evoluzione della relazione sociale, dei sentiti sociali su questi temi, prima che si diceva come si avveniva i nostri avversari. La relazione sociale si realizza in un modo estremamente esplicente, io sono in Parlamento da molti giorni ed è vero che noto che la presenza cattolica è continuata, ma noto che il genere accella e Paola Pinetti, infatti i due nomi sono assolutamente seduti dai nostri anni e quindi antivise, voglio dire che abbiamo perso tanti prezzi ma alcune colonne sono ancora lì. E devo dire, io stesso, e rendo conto in questi giorni del lavoro, delle cose che scrivo, anche per questa piccola cosa autobiografica che non è successa, io sono arrivato per fare l'accoglienza alla Camera dei Deputati, sapevo che non sarebbe successo questo, però ho fatto un po' l'ognorri e quando sono arrivato lì mi ho detto, ah, una regola, poi c'è una cosa stranissima che ho andato a mia villa, mi chiamano una regola per qualsiasi cosa che faccio, ti dai cappò al guarderò, ti dico, grazie una regola, prego una regola. E allora, in tutta questa prima giornata in cui uno non è ancora abituato, ti dico a un certo punto che i toglierti dedicheranno, hanno abituato veramente 540 euro, non sullo stipendio, perché è obbligatoriamente di avere una polizia sanitaria, e però che ti dicono, è spensibile la famiglia, hanno dato sempre facendo un buon giorno, e dicono, ah, davvero, si parli, un'interessante iniziativa, ma che cos'è la famiglia, a chi? C'è un buon di due estremi, un gestore privento, un filo privento, il pomeriggia, o le condizioni devoluzioni, ah, ce l'ho, detto io, benvenissimo, io ce l'ho, con le condizioni devoluzioni. Vorrei, allora, avere, anche, questa cosa, perché, come ho detto, non so, che dico, da parentesi, prima, una cosa che c'è già, un'altra, molto meno costosa, di quella, magari, che dico tutta, insomma, in quel momento, mi sembrano il caso, di inscenare questo progetto. E quindi, ripeto, questa cosa, di cui noi, come iniziamo, Fedevico, mi commettiamo subito, c'è stato panico nel file del nemico, perché la signorina, molto professionale, che ti stava seguendo, ha detto, Fedevico, oddio, un attimo, mi pregovo una collega, allora si sposta, attendiamo a tenere, nel caso, al fondo, mi dice, sì, sì, volevo, mi dico, non mi dice, no, non so, io ce l'ho, però, se lo faccio, non c'è, io fero, non mi insegniamo, mia, ho messo in Italia, e io gli dico, oh, un attimo che hanno funzionato, una bambina, non ha funzionato, che mi dice, guardi, lei, vede, fa una domanda all'ufficio di presidenza della Camera, e io, non ho detto, no, non voglio fare nessuna domanda, non mi facevo presenza della Camera, perché, se faccio una domanda, vuol dire questo, chiedendo qualcosa che non è bellissima, invece qui sui regolamenti ho scritto il condimento e non sono prima, io ce l'ho, quindi lo farai in casa, e qui faccio la domanda, io avevo scritto, se poi c'è un problema, me lo fate sapere, voi, non solo io che chiedo voi, insomma, mi ha fatto questa roba di un'ora, alla fine della parola io l'ho fatta, l'ho fatta, però ho scritto quelle cose tremendissime, dicendo che per esempio, io mi sentivo assolutamente umiliato dal fatto che il Parlamento del mio Paese, nel dubbio, scegliesse l'interpretazione più escludente, non quella più inclusiva, e che loro stavano leggendo delle parole, cioè le parole, come mette il professore, di sesso opposto, che non c'erano scritte, io ho detto, ma questo è sempre diretto, e poi non c'è scritto, ma che si arriva solo di lanza bianca, potrebbe essere, qui non c'è scritto, però potrebbe essere scritto, è nero, ma lo vogliamo, devi fare una domanda di un figlio di presidenza, sei finanzato di colore, e ho scritto che, questo era umiliato, perché i miliamenti delle istituzioni repubblicane assurano questo approccio, e poi soprattutto sapevo che in realtà questa è stata una battaglia che aveva già fatto Paolo Pondoscia, nella scorsa legislatura, la cosa assolutamente imbarazzante, che l'indice di presidenza della Camera, nella scorsa legislatura, non ha mai risposto, cioè si eliminano, non curavano il caso, e poi ho detto, oi boh, sono state sciolte le Camere, quindi questa cosa non si sa. Ovviamente qual è il tema? Quello di già sollevare il problema che un Parlamento che non riconosce le copie di fatto, quindi probabilmente come il solito etero, gay, fuori, li riconosce per sé, questo è già strano. E poi la cosa ancora più strana, evidentemente è che faccio un differenzio nel momento sessuale, chiaro, quale vuole essere il mio tentativo, quello di avere una risposta formale, e poi c'è presidenza della Camera, che oggi, per esempio, è una parte di presidenza, mi dirà che la mia coppia gay, di parlamentare gay, è uguale a quello di parlamentari etero, però perché i cittadini gay non sono quasi stranieri etero. Però devo dire che cosa, che questa battaglia, questa mia battaglia, un po' più bella, insomma, sto cercando di usare questo esperiente, nel Paese che compra resistenza, cioè il 90% dei casi mi dicono che io sono beneficio della pasta, e lo sto utilizzando, perché invece per poter dire che io recitavo, noi diciamo, ma io che mi avrei a pagamento, sì, ma noi ti paghiamo, che siamo venuti nello Stato, cioè io lo giuro, ma non mi fa. In realtà, anch'io vengo dal mondo delle imprese, anzi, io, voglio dire, sono molto felice di vedere Rosa Pazzi, perché il mio lavoro che dirige una associazione, si chiama Pazzi, perché si occupa di discriminazione sui gruppi di lavoro delle persone LGBT e delle associazioni per le imprese, quindi sono i direttori di lavoro che si occupano di creare situazioni nelle quali le persone che lavorano, non so se non hanno ragione, perché le persone non escono sul lavoro, perché passano il terreno e capiscono che non è il caso che non lo fanno, questo succede nelle diversità invisibili, tutti annunzi in poll'aria, le cose che devono necessarci e poi non esce, quindi il fatto che non ci siano persone in un'altra azienda che si sono rivelate perché hanno passato il terreno e non riesce a tornare meglio di nuovo. Quindi bisogna creare un ambiente, una cultura, una safe, no? C'è questa bella parola in inglese, c'è questa per via una situazione di sicurezza e questo non ce l'abbiamo. E, ripeto, questa è una seconda difficoltà, insieme a quella dei nostri versari che si organizzano, e che è vero che noi dobbiamo fare una grande battaglia culturale per spiegare che in un momento di crisi economica tu non ti devi identificare dei diritti civili e devi identificare dei diritti umani, perché un paese cresce più insieme e anche perché le stesse persone che soffrono per l'assenza dei diritti economici e sociali sono le stesse che soffrono dell'assenza dei diritti civili, cioè il metalmeccanico non è sempre etero, voglio dire, io credo che però quando il metalmeccanico, quando indossa la tuta blu, poi quando torna a casa la sera e trova il suo compagno, il metalmeccanico viene in giro. Questo è un po' un dito forse anche della sinistra, ma voglio ricordarci dei nostri concittadini in quanto lavoratori e in quanto cittadini. Invece il metalmeccanico dovrebbe pensare a un diritto di cittadinanza che guarda il rapporto della politica con il cittadino che guarda il cittadino 24 ore al giorno, non solo alle 8 o alle 17, cioè durante la linea di lavoro, ma anche quando torna a casa e appunto con un compagno dello stesso sesso, oltre a una compagna che non resta inocinta, dovrebbe fare un'ottima notizia. Non quello che faremo infatti, devo capire che... Aspetta che se no... No, io devo fare sempre il discorso culturale e non solo la notizia, ma perché fino agli anni 60 l'Italia esisteva perché c'è anche una analogia di diritto d'onore, e a seguito allora non c'è più la norma, ma non è che poi potrebbe aver messo il discorso di tutto. Adesso si chiama pericidio, cioè, quindi purtroppo culturamente l'Italia fa queste cose indietro, e non è che non pensiamo tutti che l'attività... Quindi per esempio il Revoluzionale, come mi sono avuto un po' dimenticato, il progetto EQUA, che noi siamo seguiti con i 5 Stelle, per diffondere le informazioni e di controvolenze. Quindi era un, diciamo, anche un grande complimento a tutte queste associazioni, come certi diritti e altri, che assolutamente dovrebbero essere modi. Luca, tu hai già rotto, ma era un po' per spiegare perché l'avevo detto. No, 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 sono un po' di notizia, ma anzi, come dire, in spettevole un po' di notizia, in po' di notizia, dicendo, e che in buona società... Questa è un po' di notizia, però... Sì, è exatto, che non possiamo tutto, perché quando ci occupiamo e abbiamo una relazione politica per i nostri elettori, questi elettori sono tali a quando dopo, quindi a fare un amore, a quando muoiono, o a quando sono tutti una serie di momento dove la politica è stata seguita a questa stanza. E quindi, diciamo, oggi, oltre appunto all'organizzazione del sistema contro, io vedo anche un tema che tutti, quando insieme, dovremmo fare, anche in una società, che non lo vogliamo regare, è che dovremmo fare tutti insieme al di là dell'appartenenza e degli schieramenti per spiegare ai nostri elettori parlamentari che ci stiamo occupando di metà di noi perché abbiamo tempo che in una visione della società, che è una visione del carico moderno che non va a migliore per una stranetta e inclusiva, ci stanno con le due le cose. A questo punto, dopo gli elementi di negatività, diciamo, di pessimismo, voglio anch'io associarmi invece alle cose che mi sono sentiti. Nel senso che, anche io, faccio, voglio dire, una testimonianza in pelle. In questi 15 giorni di cui il lavoro è stato preparato un momento e parlato di un lavoro anche molto noioso perché ci sono state di dotazione inudissime, tutti i tempi morti, e io, che appunto, parte della direzione del personale e del mio mestiere, quindi guardo all'interno con un occhio più attivo e anche un po' tecnico, mi sono girato per l'aula, mi piacitorio, è un punto, proprio, un grande piacere vedere che questa aula, un'aula che assomiglia al paese il più di quanto l'aula assomigliasse al paese grino, cioè è un'aula molto più diverse, ma molto più diversificata, molto più plurale, di donne, di giovani, ci sono persone giovani e questo è in buona parte di tutto al concettuto del decreto che fa la volontà di Greco e la novembre e la cinque stelle, ma anche nel gruppo del Partito Democratico ci siamo rinnovati per più di due terzi e abbiamo il numero di donne altissimi, quindi non è soltanto cinque stelle che proprio quella camera si erra per il cambiamento rinnovare, cioè le persone che sono lì che secondo me hanno, anche per il grande qualche problema perché molti delle persone che dirigono il traffico nella camera sono persone che sono nuove anche loro e ti accorgi che stanno imparando un job che si dice cioè imparano mentre fanno imparano. Però questo è molto bello ed è vero che secondo me condividono il semismo giornalizzato qui quando si dice che questo provamento potrebbe essere biblici cioè potrebbe fare delle cose che nessuno ha fatto mai. Io penso che non avrebbero il nostro però adesso io sono il senatore che dice che ha preso fare i progetti di legge di Ritalet e poi caso vuole che siano gli stessi i progetti di legge di questo avvio cioè sono evidentemente la fotocopia nel senso che abbiamo Ritalet e poi le messe di disposizione lui ha scaricato gli stampati e lui ha scaricato gli stampati e sono quindi sappiamo ora perché c'eravamo dei modi che sono già certi sia da camera che da senare io ho ancora notizia nel senso che uno di questi tre progetti sono uno con il titolo di senatore sul matrimonio qualitario uno sulle rassegnazioni della grafica del genere per le persone processuali e per l'intervento chirurgico poi che sono un po' complesse perché ritivano una nonoscenza ma c'è venuto molto semplice che un'esercizio sull'estensione della legge mancino ha una copia della soltina quindi sapete che la legge mancino è una regge che unisce non soltanto i reati violenti di odio ma anche gli hate speech come si dice quindi anche le manifestazioni di odio che non si concredono in azioni violente è una battaglia che facciamo moltissimo tempo perché uno striscione razzista in uno stadio costituisce reato mentre lo stesso striscione omofobo non costituisce reato che giustamente si dice che in un paese democratico non è pietata e è illecita quindi scrivere uno striscione omofobo in uno stadio illecito l'altra buona notizia qual è? in questo parlamento io ho una famiglia che ha messaggerato negli scanni del mio partito che ha 145 deputati e ho 101 firme di 101 parlamentari che presentano un disegno di legge che era me e loro sono andato da con i riservi e hanno detto noi mi hanno chiamato anche voi non lo mettono bene mi saranno altre 40 film e loro sono andata la scelta civica e lì ho preso quattro film di non gli anni però e adesso dico perché non lo facciamo potenziale magari ovviamente con i primi firmandali perché la legge sull'opropia contro l'opropia contro l'opropia ha una realissima barraza sequalità perché la legge contro l'opropia e se questo parlamento che viene divinto come bloccato balcanizzato paralizzato eccetera riuscisse a darsi una norma civiltale questa è una norma che proprio prima di qualsiasi confrontazione ideologica cioè dire che l'odio è sbagliato non deve essere una responsabilità primaria del parlamento cioè il parlamento è quell'entità che rappresenta se noi non riusciamo a dire che la nostra comunità funzionale controllò di tutto il suo cuore a che cosa serviamo cioè quella è una nostra funzione precisa allora se riuscissimo a dare un messaggio in questo senso io credo che un messaggio è importante perché io non so se sta capitando a te a voi ma una delle cose che a me fa male di questa mia esperienza è che dopo 15 giorni di parlamento sono già oggetto quotidiano di attratti che non sono fatto di esistere cioè la mia buona volontà la mia professionalità la mia serietà il mio il mio desiderio di cambiare le cose purtroppo si scopra con una forma di impopolarità dell'epoca secondo me c'è una forma anche di aspiro per i nostri cittadini che hanno nei confronti della politica che ha un fortissimo bisogno di uscire e che non fatti il tuo non importa se fosse un parlamento da tre d'età o da tre giorni tu stai lì e qui noi siamo in questa situazione e questo è ed è vi dico la verità anche psicologicamente non è uno stato lo semplice cioè che tu questa responsabilità e questa pesantezza la sei e allora se noi riuscissimo a giocare da un bicicolo e a tornare a questo cittadino in un tempo molto largo dicendo che siamo stati almeno capaci di metterci dal fronte sul fatto che il loro ruba bene e l'abbiamo fatto tutti insieme al di là di schieramenti di armonologie della posizione all'interno dell'aula e io penso che sarebbe un grandissimo segnale per recuperare prestigio col prestigio della politica per adesso e che credo dovrebbe essere poi alla fine nonostante differenze l'obiettivo del nostro lavoro e come lo spettavo stiamo modificando gli spunti di discussione di qui ma andiamo avanti con il contributo Benedetto Dall'Ave siamo molto contento che tu sia qua tu l'hai detto da tanti anni ma in questo momento è una bella protezione strategica dal punto di vista parlamentare ma ringrazio Enzo e mi sono certi diritti per il momento due o tre riflessioni e un punto alla tua domanda iniziale di questa domanda cioè che cosa è possibile una risposta quello che io penso su ciò che sia possibile io non ho mai creduto adesso c'è una situazione complicatissima in una scartalotta troppo di un'istante questa è una base complessiva della parte quindi non sarà quello che potrà cambiare la percezione ma io penso anche in una difficoltà di difficoltà economica di emotività travolgente che travolge qualsiasi possibilità di una discussione pubblica razionale che prevale la logica del capo spiatorio su tutto io non credo che abbia molto fondamento distinguere tra i 10.000 e altri temi io non credo che noi possiamo permetterci il gusto di arrivare a ragionare sulle cose di questa mattina in qualche modo non dimenticando dicendo non occupiamo ci sono di economia di evoluzione io credo che le cose vanno a venire perché lo sono ultimamente problemi io ho fatto per chi lo sa c'è più per chi non lo sa ho fatto un'esperienza politica che diventica tutta anche se lo stesso di essere società civile da qualche tempo di altri sorvigno quando vedo persone che dicono ma io fino all'altro giorno che c'era una situazione precedente il problema non è da quanto facciamo è come con che qualità con che passione con che identità ci facciamo io ho avuto un'esperienza da quando nel primo del recinto ho lasciato la radicale per gli anni ma non la radicale trasnazionale ho avuto un'esperienza molto precisa dentro di dietro nell'illusione consapevole che potesse essere conclusione ma scommettendo impossibile non lo probabile io volevo capire se dentro il centro-destro italiano non voglio dire che se arrivassero in calma cioè sono a favore di un'attività che non nonostante che io sia conservatore ma proprio in quanto conservatore e invece lì quel tipo di cultura c'era quello che io ho sempre trovato è un'attività di un'attività di un'attività che era un'attività di un'attività che era in questo cioè l'idea che difendere la città occidentale dell'Occidente io dico quindi difendere anche le ragioni della possibilità dell'Occidente significasse inserirsi sui virgoletti valori non riconosciabili tutte cose molto semplici che io non venivano intellettualmente ma che cerco di combattere le persone e di superare perché dico questo perché secondo me invece proprio in una fase di difficoltà non è che l'apertura l'approfondimento l'innovazione il superamento continuo degli schemi civili sui virgoletti umani siano un modo per superare per superare l'Occidente o metterlo a rispetto alle manure liberali o per città quasi sempre anche non ma insomma è un modo proprio per rafforzare l'invernità se esiste da un po' per un incidente libero libero e liberale cioè anche nelle grandi come qualcosa che si vuole come quella che c'è per passare che c'è vissuto anche poi giù per i rami anche sul piano politico che distingue l'Occidente dall'altro è la condizione omosessuale è la capacità di riconoscere dei diritti di libertà di guaglianza non il suo contrario è proprio nel momento in cui casomai si è in difficoltà che potete lavorare per rispostarti avanti sulla frontiera e io credo che se c'è una tra le tante ma una ragione per cui perfino l'Europa resta un punto di riferimento per tante altre popolazioni sicuramente uno degli elementi è legato tra le persone sessuali che vivono in paesi sessualici non solo e che guardano l'Occidente ma anche per questa ragione oltre magari di parlare niente delle donne perché è un tema molto più affrontato le donne che vedono le donne occidentali sicuramente la maggior libertà possibilità di autore contrasto e poi io continuo a pensare e anche in certa civica c'era stato un passaggio anche il tipo che forse è gestito molto male ma io credo che proprio nella prospettiva di tenuta sul piano dell'economia del reddito delle imprese se c'è un terreno dal quale non ci si può muovere e invece dal quale ci si voleva muovere è proprio quello dell'innovazione sociale dell'innovazione civile dei delitti della tolleranza senza società che c'è un'altra vita talento tecnologia tolleranza insomma dell'inclusività della capacità di creare un ambiente dove l'innovazione l'intelligenza il talento vengono premiati a prescindere anzi vengono a pratica che si crea un ambiente consolo Ivan lo diceva a proposito dell'ambiente safe che si trova alla propria identità per esempio di sessuale l'ambiente safe per l'intelligenza per l'ingegno è direi sempre che l'ambiente è sempre la diversità e a chi l'esperienza precedente diceva noi dobbiamo apprezzarci sul calore sulle cose perché questa è la forza della nostra economia dice se devo guardare vicino per il mondo dove c'è un'area economicamente potentissima che produce innovazione ma produce soprattutto quanti di vendita tassi eccetera non mi sembra il tempo della situazione è il tempio della conservazione dell'occidente nel senso che è il tempio dell'innovazione tecnologica o della strada per l'innovazione anche dell'innovazione per l'innovazione per l'innovazione per l'associale per cui io credo profondamente che uno dei segni e una delle direzioni politiche debba essere la storia dell'innovazione ma è l'innovazione con l'idea che nello specifico nostro se non siamo la città ma nello specifico nostro l'innovazione si produce dove c'è anche innovazione dove c'è anche o soprattutto dove c'è innovazione sociale ed il resto credo che anche qui lo specifico della società liberale sia quello che città come le ore ma insomma che la legislazione non ha anzi deve stare mille miglia lontana dall'idea di plasmare la società ma deve a caso mai essere il regolatore certificatore di quello che la società c'è si modifica e anche questo è un dato di innovazione per quanto riguarda l'innovazione legislativa ed è sotto gli occhi di tutti basta leggere qualsiasi sardi per l'inistra per l'inistra per l'inistra per l'inistra di chiunque opere ricerca sociale etomografica in Italia che non è in tanto un po' stabile e qui si producono la semplice dell'apporto definizionale richiamata questa notizia producono di per se stesse utilità sociale o sociale o familiare a prescindere in modo diverso naturalmente ma prescindere naturalmente la modella è un piccolo e c'è una coppia stabile ma si crea un po' è un po' familiare quindi si produce anche per usare l'ospedale non si produce l'abilità sociale si produce l'uomo assistenza negli ospedali l'uomo e quindi da questo punto di vista il terreno nella società è molto alto io dico una cosa senza entrare in un po' che cosa è possibile fare ci sono i parametri di un po' che si è un po' che si è che si è un po' 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 un po' io credo a prescindere da ogni altra considerazione se mi chiedete quel che penso se questa legislatura va avanti va avanti come io auso perché non potete vedere penso che sarebbe rischierete di essere un dramma rego di tempo istituzionale come l'uomo nazionale se questa decisatura va avanti va avanti sulla base di un qualche tipo di accordo parlamentare anche di che coinvolga un qualche tipo che coinvolga anche i dienti e questa è una cosa che noi dobbiamo tenere presente in questo senso quello che io dico è che se noi lavoriamo su una proposta seria non quella che abbiamo avuto ma se si 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 sede vigorosa dove il contesto italiano non è tanto il contesto sociale diverso ma è un contesto in cui per esempio in Francia o anche in Gran Bretagna si passa dalla partnership a se se in Francia si ha venuto da in io posto che essendo riscontrato da tutti quanto riscontrato ma se io oggi dovessi dire quello su cui mi impegno a pancia terra nella logica che dicevo prima del Senato sicuramente è definire in modo trasversale anima politica più sensibile più pronte ma anche negli altri schiamenti c'è attenzione su questo un testo di legge sulle riconoscimenti sul riconoscimento pieno giuridico pieno che porti a un'equiparazione sostanziale anche se non la professione di una distensione sicuridificita per gli Stituti Mottimiani io credo che cosa è possibile fare realisticamente secondo me se la legislatura parte è possibile arrivare a questa legislatura ad una normativa su standard europei quindi non il pastotto a una normativa su standard europei di riconoscimento giuridico pieno delle compie di fatto quelli di omosessuali e omosessuali è lo specifico per le compie omosessuali credo di questo sia per il quale si può lavorare realisticamente grazie grazie a benedetto do la parola adesso non saluto i due amici di di stato di me di nel da parola a me io volevo segnalarvi ringraziare l'associazione che a Napoli ci hanno aiutato che è stato inizio inizio di inizio di inizio di inizio di inizio di Napoli Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.